Annullata la visita da Grigento dell'assessore regionale alle politiche agricole Elio D'Andrassi. Quest'ultimo era atteso presso la sede del Consorzio di Bonifica Grigento 3 dell'area Asi. Scopo dell'incontro era quello di comunicare ai 250 lavoratori precari del Consorzio quali azioni il Governo regionale intende applicare nei loro confronti. I lavoratori rivendicano il diritto a poter svolgere le giornate lavorative che da Palermo avevano garantito ma che ad oggi sono state notevolmente ridimensionate. Siamo alle solite, siamo in questa terra martoriata in cui le promesse fanno presto a partire ma i fatti tardano sempre a realizzarsi. Siamo in una terra in cui la politica del rinvio e i ritardi fanno parte della cultura della classe dirigente e della classe politica. Oggi questi lavoratori sono circa 250, tutti a tempo determinato. aspettavano da più di un mese la venuta dell'assessore regionale all'agricoltura qua ad Agrigento al Consorzio di Bonifica perché doveva dare loro delle risposte. Invece l'assessore oggi non si è presentato ma quello che è più grave non ha fatto sapere neanche se verrà in un'altra data. Consideriamo anche che tutto ciò è il sapore di una presa in giro. Chiaramente c'è la non volontà di rispettare gli impegni presi ma non solo. È ancora più grave che in tutte le province siciliane i lavoratori dei Consorzio di Bonifica hanno svolto le giornate effettuate nell'anno precedente o meglio negli anni precedenti e questo era l'impegno dell'assessore regionale all'agricoltura d'Andrasse quello di fare in modo che in tutti i consorzi della Sicilia i lavoratori fatti essero almeno le stesse giornate dell'anno scorso. Intanto presso la sede direzionale del Consorzio Agrigentino il direttore Vincenzo Giabrone ha accolto in assemblea i lavoratori scopo della riunione il mantenimento occupazionale dei lavoratori stessi. Direttore, a cosa vanno incontro i lavoratori del Consorzio di Bonifica che quest'anno si sono visti ridotti le ore lavorative? Sì, in effetti le giornate lavorative quest'anno in funzione alla grave crisi che c'è anche a livello regionale sono state ridotte. Ogni anno il Consorzio ha assunto impegni economici non indifferenti nell'arco di quattro esercizi finanziari di quattro anni questo Consorzio ha anticipato una cosa come 2.332.000 per far sì che gli operai facessero le giornate. Abbiamo difficoltà ad assicurare un efficiente servizio cosa che abbiamo sempre assicurato è ancora più grave il fatto che sulla manutenzione avremmo problemi per poter fare la manutenzione e quindi l'anno 21 le difficoltà potrebbero aumentare se non si interviene energicamente su questa vicenda facendo sì che gli stessi lavoratori possano fare almeno le 101 giornate o 78 a seconda delle categorie e che noi possiamo quindi assicurare i migliori servizi ai consorziati. Il paradosso è che in periodo di presunti sprechi e di previsti tagli si sta colpendo un Consorzio che invece in altri ambiti è considerato un fiore all'occhiello. Sì è vero, ha ragione, è una cosa cirattrista. Come risulterà il giorno 18 di questo mese abbiamo ricevuto la delegazione spagnola composta da tutti i dirigenti e gli amministratori di tutti i consorzi della Spagna e abbiamo ricevuto ringraziamenti e riconoscimenti sia per l'accoglienza che abbiamo dato loro ma principalmente per i servizi che riusciamo a garantire e quei impianti, quelli del Consorzio, sono all'avanguardia. Ricordiamo che nel Consorzio di Bonifica Agrigento 3 rientrano ben 33 comuni ricadenti nelle province di Agrigento, Caltanisetta, Trapani e Palermo. Dall'assemblea di oggi i lavoratori chiedono risposte immediate al governo regionale pena e eclatanti forme di protesta soluzione già adottata nel maggio dello scorso anno che ha visto gli operai occupare il tetto dello stabile di Piazza Trinacrea per oltre una settimana.